Ancora un femminicidio a Rimini, un 47enne, ha ucciso a colpi di Mattarello la madre di suo figlio all'interno della loro abitazione. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. Tragedia Torrepedrera, un 36enne, non si presenta a lavoro e viene trovato privo di vita a casa. L'autopsia chiarirà le esatte cause del decesso. Oggi a Riccione Daniela Angelini ha presentato la nuova giunta, 5 uomini e 2 donne. La sindaca tiene per sé il turismo. Coronavirus in provincia regione, casi e ricoveri stazionari. Per la prima volta dopo mesi si registra lo zero alla voce d'eccessi. Buonasera e bentrovata all'edizione serale di Carotti G. Questa sera in apertura la cronaca nera. Ancora un femminicidio a Rimini, il terzo dall'inizio dell'anno. Un 47enne ha ucciso la compagna a colpi di Mattarello all'interno della loro abitazione, dove era presente anche il figlio di appena sei mesi. L'uomo è stato arrestato dalla polizia al servizio. Ha implorato il convivente di fermarsi. Basta, basta, lasciami, sono state le ultime parole pronunciate da Cristina Peroni, 32enne di Roma, udite anche dai vicini a corsi in strada in via Rastelli, dopo le urla della donna e il piantino interrotto del neonato. Benedetto Vultaggio, riminese di 47 anni, questa mattina ha ucciso la compagna a colpi di Mattarello, ma ha usato anche un coltello per colpirla alla gola. Poi l'avvolta in un lenzuolo e la lasciate esanime sul pavimento della camera da letto. Al termine dell'efferato gesto, il 47enne ha aperto la porta ed è uscito sul pianerotto all'esterno con i vestiti imbrattati di sangue, tra l'incredulità e lo sgomento dei vicini che si erano appena portati davanti all'abitazione. Uno spettacolo agghiacciante l'ha definito una testimone. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento, Vultaggio ha uniti polsi e si è fatta manettare. Così lei non potrà più parlargli male di me, sarebbero state le sue uniche parole riferendosi alla compagna appena uccisa e al loro bambino, risparmiato da tanta ferocia. La coppia stava insieme da circa un anno e mezzo, ma le prime tensioni sarebbero emerse ancora prima della nascita del loro bambino, per poi proseguire anche successivamente. Tanto che la donna era rientrata a Rimini con il piccolo da una settimana, dopo aver trascorso gli ultimi due mesi e mezzo nella sua città d'origine. Questa mattina la discussione tra i due sarebbe scaturita da pregressi dissidi relativi proprio alla gestione del figlio, che il padre per l'appunto non vedeva da un paio di mesi. L'uomo ora è in stato di fermo, davanti al magistrato Luca Bertuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Era privo di vita all'interno della sua abitazione a Torre Pedrera e lì che intorno alle 8.30 è stato trovato cadavere Michael Orlandi, 36enne riminese. Questa mattina l'assenza da lavoro aveva insospettito il padre, che lo ha cercato più volte al telefono senza avere risposta. I due lavoravano insieme nell'azienda di famiglia che commercia all'ingrosso frutte e verdura. Sarebbe stato proprio il genitore a fare la dolorosa scoperta. Immediato l'allarme al 118 e alla polizia. I sanitari purtroppo non hanno potuto fare altro che constaterne il decesso. La successiva ispezione cadaverica ha poi escluso segni di violenza. Sarà però l'autopsia che dovrebbe essere disposta dal pubblico ministero Luca Bertuzzi a svelare le esatte cause della morte. Ieri sera, da quanto si apprende, Orlandi aveva la febbre alta e per questo motivo aveva confidato di non sentirsi molto bene. Da ragazzo aveva giocato a calcio come portiere in alcune squadre dilettantistiche della zona, tra cui il Torre Pedrera e anche per questo motivo era molto conosciuto. Sconvolti per l'improvvisa scomparsa, i familiari, gli amici e la sua compagna, Orlandi, lascia due figli. Ora la politica. Oggi nella sala del Consiglio Comunale, la neosindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha presentato la nuova giunta che l'accompagnerà nel nuovo mandato. Confermati i nomi emersi nelle anticipazioni della vigilia. Vediamo. Sette assessori, cinque uomini e due donne, per affiancare Daniela Angelini, la vice e Sandra Villa, dirigente scolastico di Riccione 2030, per lei scuola e cultura, politiche giovanili e servizi educativi. Due assessori per il PD, entrambi consiglieri uscenti. Per Cristian Andruccioli, urbanistica e pianificazione del territorio, edilizia, transizione ecologica, PNRR e ambiente. Per Simone Imola, figlio dell'ex sindaco Daniele, lavori pubblici, infrastrutture, decoro urbano, mobilità e sport. All'ex questore di Rimini Oreste, Capocasa, vanno Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile. Per Alessandro Nicolardi, di Uniamo Riccione, le deleghe a bilancio, patrimonio, partecipate e personale. Due gli assenti oggi per impegni pregressi. Gianluca Garulli, di Riccione col cuore, già dirigente sanitario, che avrà sanità, benessere, servizi alla persona, innovazione tecnologica e Marina Zoffoli, di Riccione coraggiosa, con deleghe a famiglia, quartieri, politiche comunitarie e affari generali. L'Angelini, che tiene al momento per sé turismo, demanio e attività economiche, spiega i criteri delle scelte. Le competenze nelle deleghe importanti che ho assegnato. È una promessa che aveva fatto la città, era doveroso rispondere in questi termini. Successivamente l'equilibrio politico, perché, come sapete, è una coalizione molto ampia, che insieme mi ha accompagnato questa vittoria, con un lavoro veramente prezioso da parte di tutti, quindi mantenere anche questo rispetto verso chi mi ha appoggiato. E non da ultimo, ma è importante il fatto che ci fossero, ci siano figure nuove alla politica, così come avevo promesso. Tutti i componenti di questa giunta non hanno mai avuto esperienze in giunta comunale. Credo sia molto importante in questo momento ricordarci con grande lucidità tutti i bisogni e tutte le istanze che sono emerse dalla cittadinanza e da un territorio che ci ha in campagna elettorale davvero segnalato la voglia di un cambiamento. Non era nei miei programmi, assolutamente. Poi una persona per bene, con una gentilezza unica, mi ha chiesto se ero disponibile ad una partecipazione come consulente per la sicurezza, così. E mi è piaciuto molto l'impatto con la Daniela Angelini. È stato un incontro di quelli anomali, forse non politici. Non c'è il Movimento 5 Stelle che però, assicura la Angelini, fa parte a pieno titolo della maggioranza. Il contributo che hanno dato importante in questa campagna elettorale verrà riconosciuta con ruoli, se non così ufficiali come un assessorato, comunque in tavoli e anche poi ci sono le partecipate, su cui intervenire. Quindi avranno da parte mia sicuramente un ruolo. Aggiornamento sul coronavirus. Sono pressoché stazionari i numeri dei nuovi casi dei ricoveri oggi in Emilia-Romagna. Ma nell'aggiornamento odierno c'è anche una notizia che la Regione attendeva dall'estate scorsa al servizio. Sono 526 nuovi casi di covid in provincia di Rimini, uno in meno di ieri. In Emilia-Romagna i nuovi contagi sono 4.546, ieri 4.774, su un totale di 16.061 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è del 28,3%, ieri il 29,8%. In testa c'è sempre Bologna con 875 casi. In Romagna Rimini resta davanti a Ravenna che ne ha 497. Anche oggi per i ricoveri aumenti di poche unità. Quelli nelle terapie intensive sono 30, uno in più di ieri Rimini resta a 2. I pazienti ricoverati negli altri reparti covid sono 816, 24 in più ieri. Il dato rilevante di oggi è finalmente lo zero alla voce decessi. Le nuove guarigioni sono 2.238, i casi attivi salgono a 38.442 rispetto a ieri 2.308 in più. A livello nazionale continua a salire la percentuale delle reinfezioni sul totale dei nuovi casi, l'8,4% rispetto al 7,5% della settimana precedente. Il ministro alla Salute e Speranza intanto frena sull'allentamento delle misure per i positivi. Chi è contagiato deve restare a casa, ha ribadito. Si è svolta al ristorante Quarto Piano di Rimini la Charter Night 2022 del Lions Club Rimini Host con il tradizionale passaggio delle cariche e l'ingresso di tre nuovi soci, Lilia Cucchiaro, Leonardo Berardi e Roberto Brancaleoni. Abbiamo intervistato il presidente uscente Daniele Bianchi e la nuova presidente Carla Amadori che entrerà in carica dal primo luglio. È finito quest'anno di presidenza con questa Charter Night, questa serata finale e il bilancio per quel che mi riguarda assolutamente positivo. Mi ripeto con le parole di inizio mandato, quindi grande gioia, grandissima gratitudine nei confronti dei soci e delle socie che mi hanno onorato di poter presiedere il club per quest'annata. Siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che c'eravamo prefissi, quindi l'ingresso di sei nuovi soci, quindi oggi abbiamo un club più grande, più forte, quindi il piacere e l'orgoglio di poter lasciare alla prossima presidente, un club in salute, un club importante. Abbiamo realizzato moltissimi service in ambiti estremamente variegati, siamo intervenuti ogni volta che c'era un bisogno, i Lions c'erano e in più siamo riusciti quest'anno ed era anche uno dei tanti obiettivi che mi ero prefisso di coltivare le relazioni che noi abbiamo con la zona, il distretto, il multidistretto. Il mio compito quest'anno sarà soprattutto di avere tre mete, la prima sarà quella appunto di migliorare la relazione fra i soci, quindi migliorare il clima per aiutarli a coinvolgersi sempre di più nelle attività e nella vita lionistica. Un'altra meta sarà quella di attivare diversi service che possono raggiungere il cuore delle persone. Altra meta è soprattutto quella culturale, quindi di migliorare la formazione, le attività di convivialità culturale nell'ambito del club. Infine direi di aumentare il numero dei soci. Desidero effettivamente utilizzare quest'anno un tema a me caro che sarà appunto maestri ed eroi del nostro tempo. Il termine maestri viene proprio utilizzato facendo onore a mia madre il cui cognome era maestri. Ieri sera nella piazzetta del tramonto di Cattolica si è svolto l'ultimo degli incontri serali della seconda edizione del Summer Camp La Natura del Mare. Giuseppe Ungherese di Greenpeace Italia è partito dal suo libro Non tutto il mare perduto per parlare dei rischi ambientali e delle strategie necessarie per scongiurarli. Vediamo. I nostri mari sono malati, sono colpiti dai cambiamenti climatici e da questo inquinamento da plastica che cresce ogni minuto. Abbiamo varie soluzioni, bisogna metterle in atto perché per salvare i nostri mari bisogna agire presto, con urgenza e fare tutto il possibile per invertire la rotta e ricondurre il nostro sistema economico e produttivo che poi è all'origine di queste grandi emergenze verso i binari della sostenibilità. Ci dicono che la transizione ecologica porterà di qui a qualche anno ad un utilizzo molto inferiore di combustibili fossili sia per il settore automobilistico ma anche per quello dell'energia. In realtà questo tema del combustibile fossile potrebbe arrivare in un'altra forma. Sì, le grandi major dei combustibili fossili vedono nella plastica proprio l'ancora di salvezza per continuare a perpetuare il loro business basato proprio sullo sfruttamento di gas e petrolio. È qualcosa che bisogna impedire perché non possiamo cercare di risolvere un'emergenza amplificandone un'altra. Ci sono le micropassiche talmente piccole ma talmente invasive che non si vedono ad occhio nudo. invece oggi sono un grande problema. Questa è la parte più subdola del problema. Questi minuscoli frammenti inferiori ai 5 mm invisibili ai nostri occhi hanno invaso ogni angolo del pianeta, non solo i mari ma anche le vette delle montagne e persino nel nostro corpo. Ce le ritroviamo nel nostro sangue, nei nostri polmoni e anche persino nell'area che respiriamo. Oggi non abbiamo un quadro chiaro ed esaustivo riguardo gli effetti sanitari. Certo è che non è naturale che la plastica sia presente nel nostro corpo per cui l'unica soluzione che abbiamo è quella di fare in modo che siamo sempre meno a contatto con la plastica perché queste microparticelle possono derivare da qualsiasi oggetto di uso comune. La scienza in questi ultimi decenni ha fatto passi da giganti e ci ha indicato una rotta ben precisa da seguire. È chiaro un'emergenza così grande di tali proporzioni non si risolve col tocco di una bacchetta magica ma bisogna mettere in piedi quel mosaico di soluzioni che ci consentirà poi di disegnare un futuro differente dove speriamo che l'inquinamento dei nostri mari sia solo un triste ricordo. All'arena Filippo Raciti della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca ieri sera si è parlato della grande opportunità offerta dal gioco del calcio alla costruzione della personalità nell'incontro dibattito dal titolo Il calcio si gioca anche con i piedi. L'initativa è stata organizzata dall'assessorato allo sport del comune di Montefiore con il patrocino dell'associazione italiana allenatori calcio nazionale FIGC. Le emozioni muovono i piedi quindi diciamo che una buona performance parte da una qualità mentale e psichica che sia funzionale a uno spirito vincente che consenta agli atleti di dare il meglio di loro stessi. Quali sono le caratteristiche del calciatore del futuro? Le possiamo sintetizzare in due grandi ambiti. Un calciatore che sia atleta al 100% quindi veloce, rapido, attento, in tutto quello che sono gli aspetti della cura anche proprio del proprio fisico perché il calcio sarà sempre più veloce e sempre più rapido ma anche un uomo al 100%, un uomo e una donna al 100% quindi autonomo, attento, creativo, capace di gestire quelle che sono non solo gli aspetti tecnici ma anche tutto quello che sono gli aspetti emotivi legati all'intelligenza e tutto l'aspetto anche del rispetto e dei valori. Quindi un atleta e un calciatore veramente forte da un punto di vista atletico ma anche attento a quello che è il pensiero, l'intelligenza e i valori. Ti è arrivato un bellissimo complimento perché insomma sei stato definito l'allenatore ideale per il calciatore del futuro. No, io sono contento ma soprattutto per quello che trasmetto il bambino quindi a me piace quello Robby, devo dire la verità i giovani per me sono la cosa più importante anche perché è la cosa pulita del gioco del calcio quindi io cerco di trasmettere quello che mi è stato insegnato, quello che ho preso io durante gli anni quando ero in Argentina. Una serata di grande qualità, gli ospiti sono stati veramente interessanti grazie alle loro competenze e le loro esperienze hanno dato veramente un tocco di alta alta qualità alla serata. Ci saranno altre serate di questo tipo? Assolutamente sì, questa è la prima edizione ma abbiamo pensato di inserire il progetto nel nostro calendario 20 annuale e quindi si ripeterà anche ai prossimi anni. Questa sera alle 20.35 su Icaro TV torna l'appuntamento con Ticva, gli intrecci della speranza, le storie di questa sera dalla Liguria, il progetto Portofino Carbon Free per un turismo sostenibile, a Rimini il progetto Milleorti per la città, una scuola lavoro per persone con disabilità intellettiva, ad Arezzo per un progetto che rende l'arte accessibile a ipovedenti e non vedenti da Palermo dove gli studenti di un istituto superiore si prendono cura del giardino della memoria di Capaci. Vediamo un'anticipazione. Se inquini, paghi. Se è vero che ogni rivoluzione è una trasformazione, la rivoluzione di Portofino inizia così. Da qualche settimana sono stati applicati ritocchi alle tariffe per cui in proporzione alle emissioni si chiede un contributo aggiuntivo giornaliero a imbarcazioni, auto, ospiti delle strutture ricettive. Su incarico di Portofino Mare, la società partecipata al 100% dal comune, Renovit, controllata dal gruppo SNAM, ha preparato un modello per il calcolo delle emissioni di CO2 equivalenti. Nelle campagne riminesi c'è una scuola lavoro dove attraverso la coltivazione della terra, persone con disabilità intellettiva di vario genere si preparano a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro, accompagnati da educatori ma anche con l'aiuto di un neuropsicologo e di un agronomo. Il progetto si chiama Mille Orti per la Città e nasce dalla collaborazione tra una cooperativa sociale riminese e un'associazione di genitori, uniti nella convinzione che non può esserci autonomia senza lavoro, non può esserci per tutti lo stesso lavoro. Ci troviamo al Museo archeologico di Arezzo dove è stato realizzato un bellissimo progetto inclusivo, ricordiamo qual è il titolo e come è nato. Il titolo è Nel Museo ti guido io, è nato all'interno del progetto Piano Trinale delle Arti della Regione Toscana e abbiamo fatto appunto con la dirigente Rossello Esposito dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo un progetto inclusivo teso a rendere fruibile un reperto presente e importante all'interno del Museo archeologico che è il Eufronius che appunto per i non vedenti non era sicuramente accessibile. A Capaci, nel luogo in cui il 23 maggio 1992 furono uccisi dalla mafia il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, sorge il Giardino della Memoria, un piccolo polmone verde in cui vi sono tanti alberi di olivo, ognuno dei quali è intitolato ad una vittima di mafia. Da qualche tempo a prendersi cura del giardino i ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana di Palermo. Gli studenti insieme ai loro docenti hanno quindi ripulito, potato gli alberi e iniziato anche la raccolta delle olive per produrre un olio che ha avuto una destinazione particolare. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma IcaroPlay.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi le augurio di una buona serata. Grazie. Grazie.